Cosa è una neoplasia testicolare? Una neoplasia testicolare è una crescita normale riscontrata nel testicolo o testicolo. Il termine neoplasia può riferirsi a qualsiasi tipo di crescita normale, quindi una neoplasia potrebbe essere un tumore benigno o un tumore maligno. I tumori maligni sono cancerogeni, mentre i tumori benigni non lo sono. La maggior parte dei tumori testicolari è cancerogena, ma fortunatamente il cancro e i testicoli non è molto comune e rappresenta solo circa l'1% di tutti i tumori maschili. Le prospettive per una neoplasia testicolare sono spesso positive, in quanto molte sono curabili se trattate tempestivamente. Di solito, un neoplasma testicolare deriva da quelle che sono conosciute come cellule germinali o cellule riproduttive. La maggior parte dei tumori si sviluppa nelle cellule che continuano a formare spermatozoi e sono noti come seminomi. I nemminomi sono tumori formati da altri tipi di cellule germinali. Una neoplasia testicolare è più probabile che si sviluppi in un maschio bianco tra i 15 e i 35 anni, ma la causa è sconosciuta. Il sintomo più comune è un nodulo in dolore, sebbene alcuni uomini possano provare dolori o sensazione di pesantezza nel testicolo. A volte i pazienti non visitano il medico fino a quando un tumore testicolare non si è diffuso, causando segni di malignità in altre parti del corpo. Il processo di diffusione del tumore è noto come metastasi e le nuove crescite tumorali in diverse aree del corpo sono chiamate metastasi. A seconda delle posizioni di queste metastasi, i sintomi possono includere tosse di spnea, nausea e perdita di appetito, mal di schiena o un nodulo al collo. Alcuni tumori secernano ormoni che possono causare seni gonfi, una condizione nota come ginecomastia. La diagnosi di una neoplasia testicolare viene solitamente confermata mediante ecografia. Vengono quindi eseguite una radiografia del torace e una tomografia compoterizzata, TC, del bacino e dell'addome per rilevare eventuali segni di diffusione. Il trattamento di una neoplasia testicolare comporta tipicamente la rimozione chirurgica del testicolo interessato, insieme ai linfonodi vicini. A seconda del tipo di tumore e di quanto si è diffuso il cancro, la chirurgia può essere seguita da radioterapia o chemioterapia. I seminomi hanno una buona prognosi quando vengono trattati nelle prime fasi. Per i tumori in stadio I, in cui la neoplasia testicolare viene trattata prima che si diffonda oltre il testicolo, circa il 95% dei pazienti sopravvive per almeno 5 anni. I neominomi hanno una prognosi meno positiva, con circa l'86% degli uomini ancora in vita dopo 5 anni. Dopo il trattamento di successo, i pazienti di solito hanno appuntamenti di follow-up regolari per verificare la recidiva del cancro.